Buongiorno telespettatori, buon pomeriggio telespettatori di Telequattro, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, quest'oggi parliamo come sempre di venerdì di cultura e spettacolo indipendentemente da altre considerazioni, nella seconda parte parleremo dell'attività del Teatro Miela, nella prima parte siamo invece in compagnia della Barcaccia, nel senso che abbiamo con noi Giorgio Fortuna che è Presidente… Sì, un factotum, un factotum che si riduce a Buber, se c'è una persona che fa in Trieste visto che parliamo in dialetto, ecco… In genere, factotum significa la storia di Buber, in maniera più elegante per dire Buber e poi Claudio Piucca che della Barcaccia è uno dei volti più noti e più conosciuti. Allora, la stagione della Barcaccia è la numero 48, è incominciata alla fine di settembre, con il 29 di settembre, avremo ancora due repliche, il 5 e il 6, ricominciamo appunto come dicevi tu Umberto, siamo qui con questa colonna, colonna in tutti i sensi portanti di Claudio Piucca, 48esima stagione, speriamo di raggiungere questo traguardo dei 50 anni. Ah beh, ma anche dopo, insomma. 50 anni? Dopo, ma dopo si vedrà il solito discorso che già si faceva prima. Guarda, perlomeno dovete arrivare a 60 per tutta una serie di ragioni che riguardano noi. Qui non sveleremo. Perlomeno quello. Chissà, sa. Ah, chissà, sa. Chissà, sa. Allora, abbiamo iniziato, abbiamo iniziato abbastanza bene, diciamo, le giornate erano belle giornate, per cui le persone hanno preferito forse fare qualche passeggiata, per cui adesso siamo qui a fare questa pubblicità con Claudio, che è come personaggio della Striga Strigonghe fondaci di Caffè, è un falegname, sì, è un falegname tuttofare che ha perso l'useletto. Se adesso, cochiariamo subito. Sì, sì, è meglio precisare più che chiarire. Perché mi ero distratto un attimo. Avevo un canarino che purtroppo è scappato via, e qui abbiamo, il trama si tratta solamente di una cosa che magari, ma vi stanno ancora le fattocchiere, cose del genere, sì, sì. Quelli che leggono nella palla, sì, insomma, sono tutte situazioni, è una commedia che magari non ha, non ha un spessore, però fa ridere, è quello che la gente cerca in tutte le maniere, perché vediamo in giro, basta prendere. Ma guarda che se una roba fa ridere, ha uno spessore enorme, quindi… E' più facile, dicono i grandi, che è più facile far piangere che ridere, perché per far piangere basta accendere il televisore e ce ne vedono di tutti i colori. E noi cerchiamo in tutte le maniere di far ridere. Noi, ti dico personalmente, e anche gli altri miei colleghi, ci divertiamo un sacco, perché… Ma ecco, è già che che sei, a teatro, in scena, gli attori possono divertirsi fra loro. Si devono divertire. Sì, è la cosa primaria proprio, perché se noi ci divertiamo, si diverte anche il pubblico. Per cui anche dietro le quinte… Questo non succede al cinema, nel senso che quando tu, in un modo o in un altro, percepisci che gli attori si divertono mentre recitano il film, eccetera, c'è qualcosa che non torna, è come se non fossero, come dire, concentrati su quello che fanno. Lo percepisci in qualche modo, lo spettatore non sa perché lo percepisce, però c'è. A teatro, invece, c'è sempre questa sorta di accordo che c'è fra lo spettatore e chi sta in scena, diciamo, fammi divertire, puoi divertirti anche tu con noi. Ma anche perché a teatro non puoi spezzettare, no? Mentre quando… Sì, al cinema. Mentre se fai delle riprese spezzi, per cui non tieni la continuità, non tieni la concentrazione. Noi quando si inizia dobbiamo comunque portare fino alla fine e dobbiamo ben sapere la parte e poi dipende anche dalla persona. Sicuramente se devi fare con Claudio Piucca, sicuramente qualche momento vai a braccio, ecco, qualche improvvisazione. Questa è la cosa anche più divertente. Ci divertiamo noi, il pubblico comunque sente queste cose e si diverte con noi. Ma è lo scopo nostro finale di questo, no? Proprio di riuscire… Le persone quando escono dalla barcaccia devono essere felici, contenti, devono aver passato un'ora in tranquillità, ecco. Questo penso che sia… Io ho il riflesso e il riscontro delle mie signore perché… Sì, vengono spesso a vedere… E poi il giorno dopo ricevo critiche feroce, se qualcosa non andava bene, oppure come diceva prima Giorgio, ma quella frase che hai detto, dovevi dirla o no? Eh, mi pareva meglio… E quindi la mia critica sono le ore che sono attentissime a tutte le cose che succedono sul palco. Noi ci divertiamo, guarda. Quanti spettacoli fanno parte di questo cartellone? Allora, questo cartellone 20 spettacoli, non tutte produzioni logicamente alla barcaccia perché è una cosa impossibile, nelle nostre ce ne sono 4, poi avremo, ecco, per questo motivo invito le persone, invito tutti quanti a fare un abbonamento, andate al Ticket Point, Corsi Italia, Galleria Rossoni, perché c'è la possibilità di poter fare questo un abbonamento che più che altro è un carnet, un carnet cosa vuol dire? Che se questo spettacolo piace, adesso prendiamo ad esempio Amleto, Imbrodetto, dei ragazzini, l'ultimo spettacolo, prendendo uno di questi carnet che è un abbonamento per 10 persone, con un biglietto unico possono entrare tutte e 10 persone, o se no possono vedere un altro spettacolo 5 persone e così hanno ancora 5 bonus, diremo, per andare a vedere… Poi non è nominativo Giorgio, quello è bello dire, ce lo può passare, non come l'abbonamento della Triestina che è personale, è quello che non conosco, è meglio che non tocchiamo questo tasso, allora per questo motivo tra l'altro volevo dire proprio il secondo spettacolo perché tu mi dicevi che appunto avremo Massimo Navone tra l'altro, Massimo Navone che porta pronto questo spettacolo Pan Amor e Botte d'Orbi con questa regia, il spettacolo è offerto dalla barcaccia a chi ha sottoscritto uno dei due abbonamenti, abbiamo fatto anche un abbonamento, uno libero e uno intestato di 5 spettacoli, però volevo dire questo, visto che è il giorno 2 di ottobre, è la festa dei nonni, noi abbiamo tanti nonni anche in teatro, c'è la possibilità, vorrei fare questo, i nonni o la nonna logicamente vengono al teatro, se portano un nipotino, il nipotino pagherà i due euro il giusto biglietto di cortesia e i nonni 5 euro, proprio per il discorso… Vale per? Per questo spettacolo, per questo… Pane Amore e Botte d'Orbi? E Botte d'Orbi, che sarà il 12 di ottobre, quindi la prossima… Il prossimo sabato? Il prossimo sabato, questo è il prossimo sabato, poi magari lo ricorderemo ancora in avanti. Oh, c'è una compagnia della barcaccia, come funziona? La compagnia della barcaccia, nel senso che, allora, si programma il cartellone, vedendo logicamente di riuscire a incastrare un po' tutte le varie date, perché ci sarà, come tu ben sai, ospiteremo anche l'armonia con tre spettacoli, anche per dare un aiuto a loro, visto che, come ormai tutta Trieste sa, non avranno più la loro sede. È questo che può essere un problema. Per cui daremo, daremo anche a loro questo aiuto. Una volta stilato diremo questo cartellone, si vede, si cominceranno a fare le prove. Noi abbiamo iniziato questo già prima, come vi… ci sono delle fotografie… Sì, adesso… Ecco, c'è la possibilità di far vedere qualche fotografia… Ecco, già da queste… Ah, ecco qua… Si capisce che… Ecco, questo è il Piuca… Io sono con l'impedie, si vede, io sono con l'impedie… Con la cheba sboda… Con la cheba sboda perché l'uccelino è scappato… Perché l'uccelino è scappato via… Eccolo… Eccolo qua… No, no… E qui si vede decisamente, decisamente meglio, insomma… E si dicevi che cominciate… Sì, e ce ne sono altre… E appunto per ritornare sul discorso della cartomante, no? La striga, striga, strigò… La striga, strigò… Perché questo… Per raggiungere finalmente… Forse ce la faremo i 50 anni… Siamo andati da questa cartomante… Che ci prepari questo filtro… Allora, logicamente con il Consiglio Direttivo… Si parla, si vede, si valuta un attimino quali possono essere i copioni… I copioni… Ne abbiamo… Un altro che è importante… Quello che volevo che forse già tu conosci… Non so se è stato già da voi l'Aster… La compagnia di noi, Pobon, qui per… Sì, ogni tanto… Sì, vengono… Eccolo… E con loro… Si farà anche questo spettacolo… Se vedi praticamente le date… O Teccio, Bori… O Teccio, Bori… O Teccio, Bori… E altro Nonocori… E anche come diceva Giorgio… Per incastrare i vari spettacoli… Perché noi, come le vere compagnie… Andiamo anche in trasferta… Andiamo un po' di qua… Andiamo un po' di là… Una volta si andava spesso… Anche lontano… Sì… Alla fine a Trento… Si andava a Bolzano… Si andava a Verona… Adesso insomma siamo qua nell'Isontino… E andiamo anche a recitare… E sembra incredibile… In Furlania… A recitare in Triestini… Che è il massimo della… Ci hanno chiamato adesso a Porpetto… Ma questo per dirvi che penso… Ecco questo è un fiore lo chilo nostro… Penso che noi abbiamo toccato… La Furlania l'abbiamo fatta tutta… Da Pordenone, Sacile, Udine… E poi… Che riscontri ci sono… Penso che poi… Ma guarda… Allora… La fortuna nostra è questa… Fortuna… Comunque il nostro deletto è comprensibile… Essendo comprensibile… A noi ci capiscono tutti eh… Ma se c'è una commedia… Tu non l'hai mai visto in Furlania… Una commedia… Eh… Non capisci noi eh… Come dicono loro… Sì… Invece noi… Ma una volta mi ricordo… Siamo andati addirittura… A un festival… Del teatro friulano… Con una nostra commedia… Sì… Che… Quando era il sipario chiuso… Che ci hanno presentato… Sentivamo… È gelo… La gente mormorava… Non gelo… Mormorava… Non ha mai… Abbiamo ricevuto tanti di quegli applausi e risate… Che era incredibile… Sembrava di essere a casa ecco… Era incredibile… No… È vero che il dialetto nostro aiuta… Perché non ti devi fare tanta… Tanta… No no no… È come veneziano… Circa… Meno quasi… Quindi la commedia ha avuto un successo incredibile… Ma siamo stati a Trento… A Roma… A Verona… Abbiamo fatto diverse piazze… A Roma… Sì… Ma a Roma ti parlo ancora di tanti tanti anni fa… Lui era piccolo… Ero piccolo… Avevo 17 anni… È stata la mia prima esperienza con… Qui sarebbe da raccontare tantissimo… Ma non abbiamo tanti anni… Sì no… Se hai un mese di tempo… Due… Piccolo teatro… Lo lasciamo… Sì… Perché sembra strano… Ma comunque… Non sono proprio vecchissimo… Però… Iniziando a 17 anni… Potrei raccontarti un po' di tutte le varie persone… Che ho conosciuto… Quelle che hanno veramente… Tenuto vivo… Il teatro amatoriale… Che se non era per Pioto Foletto… Renato Velemo… E le altre persone… Pioto Foletto me lo ricordo… Via San Francesco… Per cui con lui siamo andati… Poi c'era suo padre… Che era anche… Carlo Fortuna… Ma non ve lo ripete… Perché se no… Con tante fortuna… Troppa fortuna… Troppa fortuna… Dopo non serve neanche… Strega Stringoni… Fondarsi dei caffè… Allora… Nella… 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 Distribuzione dei ruoli… Sì… In genere… Come… Come… Come ve muovè… Sono me che decido… Ah… Io cerco sempre di… 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 Di trovare una parte di un giovane… Snello… Eccetera… Ma non… Non ce la fanno… Questo deve fare Casimiro… Casimiro questa parte che è proprio… Tagliata apposta… Per lui dove succede… Se vedi c'è una fotografia… Un pose… Che c'è una persona… Da sotto il tavolo… E no… Quello sono io… Che mi ero messo con un vestitino… Sì… Quello ho notato… Eccolo… Proprio… Proprio la prima… Questa qua… Ecco… Ecco… Questo è un po'… Perché succede che… Sempre a causa del volatile perduto… Io sotto il tavolo non c'entravo… Sì… Quindi la mia… La parte mia… L'hanno… Subito cambiata… No… E questo per far vedere che lo spettacolo… È molto divertente… Lo spettacolo… Vedo la gente… Si sente poi… Come dicevi prima… Fra cinema e teatro… E… Lì hai là… Lì hai là… E… E credo che anche dopo… Non… Non è un bel esempio da… Però… Giuseppe… E… Poi… Avete anche la capacità… Di… Di capire… Con questa gente qua devo andare più veloce… Con questa posso andare più calmo… Cioè… Credo che dopo sia… E sia una sfida… Anche quella… Sfida magari… La sfida ti dico subito… Come il sabato per esempio… Faccio un esempio… Perché questo non è solo per la barcaccia… Per tutte le altre compagnie… Eccoci… E tu senti subito… Il sabato magari se… Uno spettacolo dove… Vengono diversi amici o persone… Sento un attimo di silenzio… Ah sì… Amici… Amici… Siccome si recita alle 17.30… C'è un pubblico un po' più anziano… Ecco lì… Bisogna alzare anche un po' il tono delle voce… Il volume… Il volume… Perché sennò… Eh… Cosa hai caduto… Sì… Ma… Per esempio… La domanda qui è al commediografo… Ti metti… Delle battute civetta… Sì… Cioè a dire… Con questa qua capimo… Se le robe… Sì… 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 Si cerca di menzionare… Un negozio… Lì dalle parti di San Giacomo… Che tutti conoscono… Ecc… Per… Per far capire le cose… Ma no… Ma è una cosa… Guarda… Il teatro… Il teatro… Io penso che… È vita… Come… Dicono i grandi comediografi… Che… Chi fa teatro… Resta sempre giovane… Sì… Allunga la vita… Questo sicuramente sì… Noi siamo ancora qua… Per cui… Speriamo… Speriamo… Speriamo di arrivare ai cinquantesimi… Noi cinquanta… Ma i sessanta… No… Il discorso è questo… Un film… È sempre uguale… No… Perché le riprese… Non essere quelle… Per cui… Quando viene rappresentato… È quello… Mentre… Quando facciamo lo spettacolo… Non è mai… Ogni rappresentazione… Sempre… 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 Comunque… Sempre diversa… Per questo qualche volta… Magari fai affidamento… Su quella… Battuta chiave… Che magari… Forse… Non è stata detta… Col tempo giusto… Perché in teatro… Importantissimo… Avere dei tempi… Se ti manca il tempo… Magari… Si perde… Ma… Esattamente… Cosa è il tempo teatrale… Perché dovendolo spiegare… Lui ha i tempi… Lui ha i tempi… Lui ha i tempi… Sono inutili… Ma è difficile spiegare cosa è il tempo… No… Non è difficile… Il tempo… Ma è il tempo comico… Il tempo comico… Il tempo comico… Sì… Il discorso è come dire… Essere bravi… Come hai fatto tu l'ultima volta che siamo visti… E raccontare una barzelletta… Se non hai la pausa giusta… E non hai il tempo comico… Puoi essere la più bella barzelletta del mondo… Eh… Te la… Te la… Ma succedono delle cose in teatro… Che… Che non so… Magari sei la con qualcosa… E ti cade… E ti cade magari fra il pubblico… Inviti… Per favore… Passa solo la pena… E l'hai visto il teatro… Ah… Quindi la quarta parete… Sì… Proprio… Che viene così spontanea… Passa per favore… Ma sì… E l'hai visto il teatro perché… Quella balletta… Se ricordi l'anno fa… Mamma mia… Mamma mia… Allora… Amore Baruffi in piazza… Iovi… Iovi… Sì… Mamma… Non mi faccio finta… Iovi… La gente è già col fiato sospeso… Ed era vero… Finché casca… Iovi… Per tagliare tutte le plastiche… In mezzo… Avevamo messo uno… E come caduto la… Plan… Ma per farvi uno scherzo… Esatto… Ah… Oh… Prima… Prima che si dimentichiamo… Perché sennò dopo… Eh… La barcaccia giovani… Perché so che questo… È un discorso… È il nostro fiore di occhiello… Sì… Ormai da diversi anni… Più di dieci anni… Abbiamo fatto… Diversi spettacoli… Cicco Beppe Brottolion… Mi sono Triestin Patocco… Evviva il dialetto Triestin… Quest'anno facciamo appunto… Questo spettacolo… Io spero… Spero… Che con questi dieci ragazzini… Comunque sì… Dobbiamo dire la verità… Con due… Che possono anche fare i nomi… Alice Fontano… Giovanni Codega… Da ragazzini… Con me… Dai dieci… Undici anni… Hanno partecipato proprio… È come… È come… Sì… Il vivaio dei ragazzini… Giochi i cucini… Poi giochi i juniori… Poi giochi in prima squadra… Per noi è una soddisfazione… Per me personalmente… È una soddisfazione grandissima… Poi tra l'altro… Dobbiamo dire che alcuni di questi giovani… Hanno spiegato il volo… Proprio a livello nazionale… Almeno persone che hanno… Frequentato il teatro… Che hanno fatto… Vediamo adesso per i giovani… Perché se parliamo di Marina Calcagno… Penso che nessuno sappia… Ma Davide Calabrese… Per esempio… Penso… Eccolo… Certo… Davide Calabrese… Eccolo… Lui ha avuto proprio… Eh beh… Adesso… Io non gli faccio mai complimenti… Però… Insomma… È un nome che dice… Che dice molto… A livello nazionale… Molto più di quanto… Noi triestini… Forse siamo… Chiaro… A livello nazionale… Cioè… Il discorso nostro… Qualche volta si parla… Eh beh… Il discorso… Amatoriale… Dialetto… Dialetto… Per modo di dire… È la nostra lingua del cuore… No… È bello riscontrare… È bello riscontrare… Especialmente… Con i giovani… Quando che si parla… Si… Qualche frase… Qualche parole… In dialetto… Che restano così… Stai intendo… È il footer… E… E allora mi guarda… Faccio ora il leverin… Cosa… Cosa… Cosa devo prendere… Il footer dico anche a me… Sì… Il footer dico… L'altra parola… Il leverin… Che cosa è il leverin? È piede e porto… Questo discorso… Per questo motivo… Ma questo… L'ho fatto anche con le scuole… Con la Ruggia Romana… Cioè… Quando mi hanno intappellato… Per poter fare… Del teatro… Con i ragazzini… Ok… Va bene… Ma come in dialetto… Poi sono venuto in teatro… L'hanno visto… I genitori poi hanno voluto… Finito una volta la scuola… Continuare… Sì… Anche in teatro… Questo… Per noi è importantissimo… Non credo che tante compagnie… Amatoriali come noi… Abbiano comunque un vivaio di ragazzini… Ragazzini che poi… Hanno fatto la loro strada… Anche per esempio… Lasciamo parlare del discorso della prosa… Ma anche Andrea Stanisci… Ah come noi… Lo scenografo… Lui ha iniziato con noi… Ha iniziato proprio con Formiche… Nell'ottanno 1982… Era ragazzino… C'era già il sonoro… Sì… C'era già il sonoro… Mamma mia… Però lui sul libro che ti ho lasciato… Quello di 40 anni… Dove proprio ragazzino… Lui ha capito subito… Che il discorso per lui… Recitare… Però aveva già cominciato a fare… Però è bello anche questo… Cioè che uno… Magari dice… L'ambiente mi piace… Cioè… So che sei la mia… Però comprendere anche che… Esiste un lavoro… Se non dietro le quinte… Perché magari il lavoro dello scenografo… Non sei che sia dietro le bambine… Insomma… Cioè capire… Mi resto però… Mi occupo… De altro… De altro… Perché tanto lavoro sei… Ecco insomma… Comunque… Per questo motivo… Per questo motivo… Per questo motivo… Per questo motivo… Il teatro… Per questo motivo… Per questo motivo… Vengono… Vengono… Si siedono… Vedono qualcosa… Le prove… Eventualmente… Se manca qualcuno… Dò loro il copione… Se ne abbiamo… Tra Paolo… Paolo ha cominciato a recitare… Sì… Paio di anni fa… Ormai… Paolo Bettani… Più di sessant'anni… Sì… Lui ha voluto provare… L'entusiasza in maniera… Lui ha iniziato con Sebastiano… Con il figlio… Perché sempre per il discorso… Dei giovani… Ancora… Si faceva quella volta… In cattolica… Questo è un… Adesso non è più… In pensione… Primario… E suo figlio… Ha voluto poi fare… L'Accademia di Nico Peppe… Ah… Come no… È utile… Per cui dare anche… Questa… Questa voglia… Noi ragazzini nostri… Di poter provare… Non solo a recitare… Ma perché… Come diceva appunto adesso Claudio… Ci sono da fare le scene… Ci serve il scenografo… Ci sono le luci… C'è il trovarobe… Tantissime cose… Il teatro… Per lavorare… Trovi lavorare… Locandine… Sì… Non poter fare… Ah beh… Non è così semplice… Come uno pensa… Poter fare… Un libretto… Costruire il libretto… No… Fare le pubbliche relazioni… No… Oggi come oggi… Se non hai… Se non hai sul telefonino… No… Per fare sui social… Sei tagliato fuori… In poche parole… E adesso vediamo… Se forse… Con delle forze nuove… Avremmo questa… Fortuna… Di avere anche questi giovani… Che si occuperanno un po' di… Devo cambiare i cognomi… Devo cambiare i cognomi… Allora… Grazie a… Grazie a… Aspetta… Che fortuna te sono… Giorgio… Ah sì… Perché ce ne sono tanti… Esatto… Grazie a Giorgio Fortuna… Claudio Piucca… Buon lavoro… Vediamoci ogni tanto… Grazie… Grazie… Poi passare dal dialetto… Alla lingua… L'italiano… Senza soluzione… Comunque sei sempre invitato… Ok… Sempre invitato… Mi sono stanco… Troveremo una parte anche per lui… Ah sì… Sicuramente sì… Dovemmo già fatto provare a recitare… Che ha cominciato… Un beccio brontolone… Rustego… Mi sono… Va bene… Fatto… Dopo la pubblicità… Cambiamo… Non argomento… Perché continuiamo a parlare di teatro… Bene… Grazie… Seconda parte di Trieste in diretta… Continuiamo a parlare di teatro… Ci spostiamo in piazza… Cosa è? Piazza Duca degli Abruzzi… Duca degli Abruzzi… Siamo insieme a Massimo Navone… Che è il direttore artistico del Teatro Miela… Per parlare appunto dell'attività del Miele… Intanto grazie per essere tornato nei nostri studi… Qual è il terzo anno che sei direttore artistico… Questo inizia adesso il terzo anno… Il terzo anno… Terza stagione… Che programmo… Già che ci siamo… Facciamo un piccolo bilancio… Che sensazioni hai avuto in questi tre anni? Ha avuto delle sensazioni positive sotto vari fronti… Il fronte del pubblico che si è moltiplicato… Certo sempre con una gradualità… Ovvio che certi esperimenti un pochino più particolari sono seguiti da un pubblico più di nicchia… Quindi hanno dei numeri inferiori… Mentre delle cose più popolari… Più di chiamata… Logicamente riempiono il teatro… Però siccome l'idea è proprio quella di trovare un bilanciamento interessante per tutti i tipi di pubblico… Quindi coinvolgere con delle novità e aprire a delle dimensioni meno esplorate è altrettanto importante… Così come anche invece dare la possibilità di godere di cose anche più popolari e più note e più conosciute… Quindi secondo me trovare l'equilibrio giusto è oggi la cosa più importante… Ecco il Miela nella programmazione teatrale triestina occupa sempre un posto molto particolare… Nel senso che forse è quasi per antonomasia il teatro da cui si esce forse più con delle domande che non con delle risposte… Io spero di sì… Se mi dice questo sono contento perché il teatro è intanto un luogo di incontro, un luogo di riflessione, un luogo di condivisione dal vivo… E noi siamo appunto sempre dietro gli schermi che sono importantissimi perché ci aiutano anche a essere connessi, anche a distanza… Però poi quando siamo a teatro abbiamo voglia di avere qualcosa di diverso, di partecipare a un'esperienza diversa… Spero che il periodo… Adesso a me è secca tornare a parlare del periodo pandemico, però è anche vero che il periodo pandemico ha evidenziato tutto ciò… Quando alcuni spettacoli andavano sul web, poteva essere lo spettacolo con le riprese migliori, dove tutto funzionava, non ti restituiva il piacere di star là… Meno male perché altrimenti non saremmo più ripartiti… Invece a maggior ragione il contatto diretto però richiede una partecipazione diversa e richiede anche dei contenuti e una modalità diversa di comunicazione… Inutile cercare di portare sul palcoscenico qualcosa di analogo alla televisione o all'intrattenimento televisivo, bisogna esplorare delle strade diverse… Anche perché uno non esce di casa per poi ritrovarsi quello che… Parecchia attenzione alla danza contemporanea, però alla danza contemporanea, come posso dire, più… Se non di ricerca e quando si dice ricerca… Uno si spare… Sì, uno già si… Ma comunque alla danza contemporanea meno… Mettiamola così… Finora meno frequentata in città… Certo, certo. Ho inaugurato quest'anno Miela Danza, che mancava da un po' di tempo all'interno del palinsesto del Miela… Dove c'è appunto Miela Music Live, che è una bellissima stagione di concerti World Music… Dove c'è appunto tutta una ampia sezione dedicata alla prosa, soprattutto giovane… C'è un'ampia sezione dedicata alla clownerie, al circo, al teatro, al teatro per tutti… C'è Miela Bimbi, che è una stagione proprio per gli spettatori più piccoli che saranno gli spettatori del futuro… Certo, certo. …più fertili per la creatività e anche per l'incrocio dei linguaggi e la connessione dei linguaggi… E quindi mi è piaciuta l'idea di fare un focus sulla danza contemporanea in apertura di stagione… che è inaugurato ieri e che questa sera invece avrà come protagonisti Livia Bartolucci e Sergio Tosi… …che sono una danzatrice e un performer… …che hanno fatto un'esperienza molto particolare legata anche alla nostra città dall'elemento marino e acquatico… perché loro hanno partecipato ad una spedizione a bordo di una barca di 36 metri… …che ha fatto tutto un periplo del globo, passando anche attraverso il Polo Sud, partendo dall'Olanda… …e attraversando, toccando vari paesi con uno scopo di sensibilizzazione ambientale… …quindi per ricordare che il pianeta è uno solo, quello abbiamo e lo dobbiamo tenere da conto… …durante questo percorso i vari artisti che erano a bordo hanno fatto una sorta di diario di bordo personale… …in cui hanno elaborato delle suggestioni che hanno preso forme diverse… …quindi momenti di danza, momenti di performance, momenti di documentazione di questo viaggio… …riflessioni condivise sulle sensazioni che la permanenza nell'oceano ha prodotto in ciascuno di loro… …quindi per cercare di ritrovare una dimensione naturale anche di tipo interiore… …da questo viaggio è nato un progetto che si chiama proprio Appunti dall'oceano… …in cui Livia Bartolucci presenta due tappe di questo viaggio… …due tappe performative derivate da questo viaggio… …si tratta… quella di stasera è una solo di danza che si chiama Smagliature… …dove lei interagisce con dei video, delle immagini video… …tra l'altro anche con una figura di grande impatto emotivo… …perché per buona parte del tempo lei danza completamente nuda… …in una dimensione molto visionaria… …non ovviamente di tipo esplicito… …però usa il suo corpo in tutte le sue possibili sfumature e vibrazioni… …e questo è molto interessante… …e alla fine lei dialogherà col pubblico proprio per capire… …che cosa… …questa esperienza condivisa ha prodotto… …quindi anche il dialogo col pubblico fa parte dello spettacolo… …non è qualcosa di staccato… …contemporaneamente ci sarà un allestimento di una installazione… …che è fatta di pannelli disposti in una maniera particolare… …quindi anche suggestiva da percorrere… …sulla quale ci sono degli IQ, delle immagini e dei QR code… …per cui gli spettatori possono cliccare sul QR code… …e gli appare sul telefono un frammento di questo viaggio… …questo è molto Miela… …sì, vuoi della danzatrice, vuoi del performer, vuoi del musicista… …che ha prodotto delle musiche durante questo percorso… …invece domani, che è sabato… …il progetto si conclude con un laboratorio aperto a tutti… …dalle 15 alle 17.30… …tenuto da Livia Bartolucci… …in cui lei farà fare degli esercizi di armonizzazione fisica… …di armonizzazione interiore… …sempre ispirati a questo tema dell'acqua e del lasciar andare… …e a seguire ci sarà una performance site specific… …fatta da Tosi e dalla Bartolucci… …che se il tempo ce lo permette si svolgerà all'aperto… …in buona parte all'aperto intorno al teatro… …altrimenti all'interno del teatro… …e a cui potranno partecipare spettatori… …che sono interessati a condividere questa esperienza… …e sarà quindi cucita a misura di quello che è lo spazio del mela… …e questa è la danza contemporanea molto spesso… …questo fanno… …cioè di non prescindere dal luogo… …esatto… …in cui lo spettacolo si tiene… …una cosa parecchio curiosa… …per quel che riguarda… …poi ho una domanda su questo un po' specifica… …per quel che riguarda la prosa invece… …allora per quel che riguarda la prosa… …abbiamo intanto iniziato… …con una rassegna particolare… …intitolata… …L'arte accade a teatro… …in cui abbiamo ripreso… …tutta una serie di narrazioni… …e spettacoli… …sui pittori famosi… …che hanno frequentato il nostro territorio… …che ha avuto molto successo… …con cui abbiamo aperto… …e adesso poi inizierà invece… …la stagione… …ovviamente vera e propria… …che vedrà… …faccio dei nomi… …per esempio ci sarà Raul Cremona… …che viene a portare il suo spettacolo… …bravissimo… …poi ci sarà Paolo Nani… …che torna con la lettera… …che ha avuto già grande successo l'anno scorso… …e poi con il suo nuovo spettacolo… …poi ci sarà un altro spettacolo molto nuovo… …e fresco… …che si chiama Amazon Crime… …fatto da un gruppo di ragazze molto giovani… …amazon Crime adesso mi è arrivata con un po' di ritardo… …che ha avuto molto successo… …ha raccolto vari premi in giro… …e che parla dei lavoratori… …di questo tipo di aziende… …sotto Natale… …è una storia che racconta… …no… …dei fatti veri… …da cui poi sono state elaborate delle storie… …quindi c'è un incrocio tra realtà… …e fantasia… …che rende lo spettacolo particolarmente interessante… …poi ci sarà la rassegna protagoniste… …eh volevo arrivare anche a questo… …certo… …certo… …che ritorna all'interno… …quali ci saranno… …sempre intorno all'8 marzo… …sì intorno… …che abbraccerà tutto il mese di marzo… …sì… …sì sì… …tutto il mese di marzo… …e all'interno di questa rassegna… …ci sarà Marta Cuscuna… …che torna con due suoi spettacoli storici… …ci sarà Alessandra Faiella… …che viene con una produzione del Teatro Franco Parenti di Milano… …con una produzione che si intitola Age Pride… …questa l'ha capita subito… …esatto… …poi ci saranno… …altre… …ci sarà Gabriella Grayson… …che viene con due spettacoli… …ispirati alla scienza… …la donna della bomba atomica… …e quindi anche lì ci sarà una miscellanea di nomi noti… …più noti e famosi… …di generazioni diverse… …e di anche giovani… …non vorrei aver letto male… …torna anche il Teatro La Fuffa… …tornerà anche il Teatro La Fuffa… …che sono meravigliosi… …che sono bravissimi… …che tornano con Barbie e Ken… …che è abbastanza… …però è uno spettacolo che diciamolo… …mi pare di capire che nacque prima… …del film… …del film… …se non mi sbaglio… …avevano già iniziato a coltivare questa idea prima del film… …in realtà… …poi è ovvio che ha a che vedere anche col film… …e beh sì… …non è che… …però ovviamente in una chiave teatrale è molto diversa… …e molto coinvolgente… …e sono anche molto bravi… …sulla prosa volevo chiedere una cosa… …ed è una riflessione che sto facendo da un po' di tempo… …a livello nazionale… …sì direi a livello nazionale… …mi accorgo che… …ma può essere che sia soltanto una mia riflessione… …però mi accorgo che non ci sono più… …per ragioni fisiologiche… …nel senso che se ne sono andati… …adesso è inutile andare… …a parte forse qualche eccezione… …però non ci sono più… …gli attori che riempiono i teatri… …indipendentemente da quello che presentano… …cioè una volta dicevi… …vado a vedere X piuttosto che vado a vedere questo testo… …e si trattava nella maggior parte dei casi… …di grandi attori di una certa età… …che adesso non ci sono più… …questo in qualche modo obbliga i teatri… …a riconsiderare qualche cosa nella programmazione secondo te… …cioè… …voi avevate fatto… …l'altro anno… …due stagioni… …due stagioni fa… …quell'esperimento… …secondo me bellissimo… …con Chekhov… …affidato ad attori… …ad attori giovani… …giovani… …e eccetera… …e devo dire la verità… …poi… …non necessariamente… …Ziovania deve avere 70 anni… …può farlo anche un attore di 30… …certo… …poi dopo il… …ma… …questo fatto generazionale che… …appunto tolti… …facciamo un chino… …orsini… …lavia… …branceroni… …branceroni… … eccetera… …non c'è… …forse… …se Alessandro Garsman tornasse a teatro… …probabilmente farebbe… …forse Favino… …ma ecco voglio dire… …i nomi si esauriscono con una certa facilità… …obbliga ad un ripensamento… …o a quantomeno ad una correzione di rotta… …rispetto a qualche anno fa… …mi rendo conto che è un discorso che riguarda… …non tanto il Miela che… …pero insomma… …penso che poi… …se lo si fa… …vi arriva anche un discorso del genere… …sì no… …sicuramente… …il discorso del teatro di prosa è molto delicato in questo momento… …sì… …proprio perché… …no… …i circuiti tradizionali cercano sempre il nome… …in cartellone… …no… …e il titolo famoso… …no… …se non ci sono questi due elementi… …si fa fatica… …a distribuire… …però dall'altra parte… …è un po' un cane che si morde la coda… …no… …perché questo… …in ogni caso continua a bloccare l'accesso alla distribuzione… …di… …chiamiamola di serie A… …cioè non quella alternativa… …no… …ha tanti prodotti… …che appunto… …potrebbero essere molto… …belli e interessanti… …che però non nascono senza un nome… …di chiamata… …per tante ragioni… …e anche perché… …i nomi di attori… …gli attori importanti… …ovviamente sono molto… …molto… …molto impegnati… …con le produzioni televisive… …cinematografiche… …eccetera… …quindi… …impegnarsi nel teatro… …è problematico… …perché vuol dire… …impegnare un periodo lungo di prove… …con continuità… …e poi altrettanto… … vuol dire… …impegnare un periodo lungo di repliche… …che… …è difficile incastrare… …no… …è difficile… …con gli altri impegni cinematografici… …quindi… …è un po'… …una situazione… …in questo momento… …secondo me… …abbastanza problematica… …dall'altra parte… …c'è… …una offerta enorme… …di piccoli prodotti… …monologhi… …no… …con cose a due… …al massimo… …eccetera… …proprio perché… …c'è un po' l'esigenza… …di poterli… …piazzare… …con agilità… … nell'intercapedini… …tra… …un impegno e l'altro… …infatti si vede sempre più spesso… …no… …questi… …spettacoli di lettura… …o… …quasi… …anche di attori di nome… …che… …però… …fanno appunto un reading… …fanno… …no… …queste cose qua… …proprio perché… …questo non li impegna… …in una produzione… …infatti la media produzione di prosa… …è praticamente scomparsa ormai… …sì… 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 …è una piccola rivoluzione… …che forse probabilmente… …il periodo pandemico… …ha evidenziato… …ma che forse… …era già in atto… …era già in atto… …sì… …laddove invece… …mi è parso di cogliere anche… …che… …anche il Miela… …si affaccia… …e si affaccia anche da tempo… …per dire la verità… …questo… …dire fenomeno non è… …però questo genere… …che magari… …per il… …per i palcoscenici italiani… …abbastanza nuovo… …che quello del… …del… …one man show… …dello stand up comedian… …dello stand up… …dello stand up… …prima ancora… …che in Gran Bretagna… …amai negli Stati Uniti… …e c'è una tradizione… …di stand up comedian… …che è data… …da… …parecchi… …parecchi anni fa… …perché… …io magari conosco poco… …la figura di Lenny Bruce… …se non per il film… …di Bob Fosse… …se non mi sbaglio… …ma non mi ricordo… …e… …però… …pian piano… …anche da noi… …si sta… …affermando… …questa… …questa figura… …che di solito… …sono anche… …piuttosto corrosivi… …cattivi… …e… …e… eccetera… …e… …per esempio… …alcuni spettacoli… …che hai nominato… …all'interno… …di… …dello… …spazio… …che dedicati… … alla scena femminile… …sono… …se non degli stand up comedian… …comunque delle one woman show… …sì… …certo… …sono… …sono dei fenomeni… …che in questo momento… …chiamano… …anche pubblico… …perché… …sono fenomeni che nascono… …prevalentemente… …sul web… …no… …e quindi… …guadagnano… …degli spettatori… …attraverso i contatti… …quindi… …praticamente… …vengono a teatro… …con… …degli spettatori già fidelizzati… …che… …li vengono a vedere dal vivo… …quindi… …è un po' anche un'operazione… …di promozione all'incontrario… …no… …perché tu l'hai promosso… …tu sai già che… …l'agenzia sa già che… …in una determinata zona dell'Italia… …o che a Trieste… …quello stand-upista… …ha una serie di contatti… …nella regione… …sufficientemente… …ampi… …e quindi di conseguenza… …dice… …quà possiamo fare un teatro… …da 300 posti… …come il nostro… …sapendo che lo riempiamo… …no… …o invece… …con quest'altro artista… …no… …perché lui ormai viaggia… …sulle mille presenze… …e quindi… …quindi si sa già in anticipo… …quale sarà… …no… …quale sarà il numero di spettatori… … che viene a vedere… …per esempio… …questo non avevo mai pensato… …ma… …questo che stai dicendo… …ci fa capire… …come… …allestire… …la… …stagione… …di… …un teatro… …diventi… …da un lato… …divisci… …divisci… …ma… …divisci… …divisci… …comi… …comi… …intercettare quelle che sono le… …le… …le strade più… …più… …interessanti… …che non è… …non vuol dire solo… …quanta gente riusciamo a far venire… …no… …ma riuscire… …chiaro… …per il teatro deve essere pieno ovviamente… …però… …anche riuscire a tenere una linea artistica… …certo… …che abbia una sua coerenza… …e abbia una sua validità culturale… Voi… …vi siete fatti un'idea del pubblico tipico del Miela… …o non ha senso questo tipo di categorizzazione? Io credo che in questo momento è difficile… …in questo momento è molto difficile… …infatti la scelta che facciamo è quella di toccare ambiti diversi… …in maniera tale da poter intercettare pubblici con interessi diversi… …e cercando di fare in modo che un pochino si incrocino tra di loro… …cosa che però non è facile… …perché normalmente il pubblico tende a fidelizzarsi ad un genere… …più che non a 300… …però stiamo incominciando a vedere che spettatori che cominciano a transitare… …e questo… …e questo… …a me diverte… …perché ogni tanto quando vado a vedere delle cose che stanno fuori dalle mie… …corde… …dalle mie corde… …insomma… …perché poi diciamo la verità… …uno non è che può seguire tutto… …e a uno non è che possa piacere tutto… …però vedo ogni tanto che mi guardano… …e dicono… …e tu qui… …eh vabbè… …poi dopo appunto ci si fidelizza… …ci si diverte anche con le cose che in partenza non ti piacciono… …allora… …abbiamo tempo solo per ricordare eventualmente… …i primissimi appuntamenti… …allora no… …perché adesso qui mi stavo vedendo che adesso noi abbiamo… …lunedì 7 abbiamo un Pequod in anteprima… …con Ilaria Tutti che è l'autrice del libro… …Risplendono un brucio… …che è un appuntamento estremamente importante… …abbiamo una replica di Trieste e il mare… …che è una coproduzione tra i teatri cittadini… …che avevamo già presentato a Let's Play quest'estate… …ci sono le Negres Vert… …che tornano venerdì 11… …e sono un gruppo cult… …che già sta vendendo moltissimo… …infatti è importante che chi vuole venire si sbrighi… …perché i posti stanno esaurendo… …poi abbiamo Topolini e obsoleto… …che sono due monologhi comici… …rispettivamente di Luigi Orsini… …topolini che racconta dal punto di vista di un bagnino… …dei Topolini… …dei Topolini… …c'è un bagnino che viene da fuori Trieste… …come vive l'impatto con i triestini… …in quel contesto così particolare… …visto con un occhio così affettuoso… …da un attore veramente straordinario… …che ha già fatto parecchie repliche di questo spettacolo… …e obsoleto che è di e con Stefano Dongetti… …che è una colonna del Miera… …che ha scritto questo… …questa stand up… …veramente deliziosa… …sulla sensazione… …di incominciare a sentire… …il proprio corpo… …che in qualche momento… …comincia a mollarti… …certo… …quindi sono molto divertenti… …grazie Massimo Ravone… …per essere stato con noi… …buon lavoro… …e complimenti davvero… …noi con Trieste in diretta… …ci vediamo martedì… …a partire dalle ore 18 come sempre… …grazie a tutti… …arrivederci… …